Sono tanti i presepi, è una bella esperienza, una bella camminata che facciamo nel borgo medievale su tanti sentieri, strade, linee, angoli, pertugi che mostrano un po' l'origine storica del nostro paese. È bello vivere questo percorso anche perché ci rendiamo conto di quanto lavoro ci sta dietro al borgo dei presepi e quanto lavoro hanno vissuto anche i nostri antenati in questo percorso, in queste strade, in questo paese. L'esperienza è una bella esperienza per tutti e ciascuno nel vivere, nell'incontrare tanti modi di conoscere, di costruire i presepi ma è un'esperienza bella anche per tutti coloro che ci hanno lavorato perché ha dato una bella possibilità per costruire un po' di comunità un po' di collaborazione tra tante associazioni, tra tanti volontari, tante persone che si impegnano si sono andate da fare nei mesi che hanno preceduto questa esposizione e tuttora fino al 6 gennaio. Valerio Zucchelli, uno dei volontari proprio di Gromo Borgo dei Presepi, tanto lavoro dietro queste giornate così speciali. Sì, devo dire proprio come diceva Don Flavio, il lavoro è tanto, i volontari che hanno lavorato sono tanti perché oggi li rappresento ma sono volontari che si sono messi a disposizione da circa due mesi e da quest'anno sono anche aumentati e ci hanno creduto e ci hanno messo proprio l'impegno tutte le sere fino tardi a lavorare per preparare questi ambienti come avete visto, sono volontari anche che fanno parte anche di associazioni, ad esempio la Croce Blu di Gromo gli Alpini, lo Scic Lab, la Scuola dell'infanzia, la Scuola Materna, l'Associazione Idem e spero di non dimenticare altre associazioni, comunque sono così nominate anche loro anche se non mi viene in mente. Siamo un gruppo che comunque ci abbiamo creduto, ci abbiamo messo l'impegno e veramente devo dire che quest'anno il Borgo dei Presepi si è già ingrandito e spero proprio che l'anno prossimo sia ancora più grande. Grazie ancora a tutti, anche ai cittadini, alla gente che ha messo a disposizione i locali e chi ha dato una mano per la sorveglianza, per i ristori eccetera. Proprio un grazie, un grazie grande, grande a tutti per il lavoro fatto. Facciamo un po' di numeri, quanti sono i presepi esposti? I presepi esposti sono dai 130 ai 140, di dimensioni abbastanza grandi a quelli più piccoli. Sono tantissimi i presepi che vengono anche da tutto il mondo e devo dire che qualcuno ha proprio saputo che c'era questa presentazione e hanno voluto darci questi presepi e presentarli, quindi un grazie anche a loro. La particolarità di gromo di questo Borgo è proprio che si entra all'interno delle proprietà delle proprietà che chiaramente sono spesso proprietà private e che non si possono ammirare nei giorni normali. Sì, esattamente, nei ringraziamenti che facevo prima è proprio perché ci sono alcuni privati che hanno messo a disposizione i loro ambienti, i loro locali, che solitamente durante l'anno sono locali chiusi perché chiaramente entrano solo loro, mentre invece con questa opportunità si è voluto mostrare anche gli ambienti proprio perché sono ambienti favolosi, gli ambienti vecchi, antichi e soprattutto particolari, quindi l'opportunità del Borgo dei Presepi dà anche la possibilità alla gente di vedere questi ambienti all'interno di questo fantastico borgo.